Il Foggia cerca di uscire fuori dal tunnel nella serata in cui ritrova il pubblico dopo oltre due mesi, ma lo zaccheria, il gelo e il clima di contestazione abbassano la media delle presenze, pochi intimi per la squadra di Coletti in cui debutano le new entry Perina, Tascone e Santaniello. Allo spregiudicato 4-2-3-1 del Foggia, pazienza oppone il solito equilibrato 3-5-2. A partire bene sono però proprio i padroni di casa che dopo 4 minuti trovano il vantaggio, grazie al pregevole acuto di Millico, conclusione Guidotti battuto, un gol ed un assist per l'ex Ascoli nei primi scampoli con la maglia rossonera e festa sotto la curva sud con i compagni. L'illusione dura però poco, l'Avellino spaventa Perina al nono con De Cristofaro che fallisce da buona posizione. All'undicesimo il Foggia sfiora il raddoppio, conclusione da fuori area di Marino, una deviazione avvelena la traiettoria ma Guidotti riesce a salvarsi in calcio d'angolo. Due minuti più tardi però gli Irpini trovano il gol del pari sugli sviluppi di un calcio d'angolo e Cionec ad approfittare della dormiente retroguardia rossonera e a mettere dentro. Da quel momento in poi il Foggia sparisce dal campo e al 28esimo l'Avellino mette la freccia del sorpasso. Sgarbi recupera palla e serve Gori, mancino potente, palla nel sacco per il gol dell'1-2 che gela il già infreddolito popolo dello Zaccheria. Prima dell'intervallo l'Avellino ha la palla del Trisma, ma De Cristofaro la fallisce a due passi dalla porta calciando sul fondo dopo il cross alla sinistra di Tito. In avvio di ripresa il copione non cambia, minuto 53, Gori tutto solo di testa spedisce incredibilmente sul fondo e si divora il gol del 3-1. Al 64esimo ci pensa però Ricciardi a chiudere di fatto i giochi. Sgarbi riparte tenuto in gioco da Rizzo e serve il 2 dell'Irpini che non sbaglia e fa secco ancora Perina mettendo il definitivo sigillo sui tre punti. Il Foggia non c'è più e rischia di affondare al 79esimo. Gori si fa ipnotizzare da Perina e fallisce la palla del poker. All'85esimo il Foggia resta pure in 10, entra taccia del subentrato Embalo su Palmiero e Rosso diretto. Nel finale Rigione di testa ad impegnare Perina col portiere rosso-nero che salva. L'arbitro accorda 6 minuti di recupero, poi il triplice fischio, terza sconfitta di fila per un Foggia in caduta libera e che ora ha un solo obiettivo, salvare la categoria e cercare di non affondare.